Quest'ultima lettura biblica che dedichiamo al tema della paternità di Dio nel Nuovo Testamento è indubbiamente una delle più complesse, una delle più difficili. Alle spalle abbiamo, come ricorderete, il fascino del Padre Nostro che indubbiamente esprime quella fragranza, quell'intensità, quella trasparenza e anche se volete quella divinità diciamo noi credenti che Cristo riesce a trasmettere. Qui ci troviamo nell'interno di una riflessione teologica piuttosto ardua Prima però di entrare in questo orizzonte che è duplice rappresentato da Paolo e da Giovanni vorrei raccogliere ancora il filo del Padre Nostro e lo faccio con una testimonianza che mettiamo così in apertura quasi come per creare l'atmosfera l'atmosfera della riflessione che però dovrebbe sbocciare sempre nella contemplazione, nell'orazione. Vorrei proporvi una rielaborazione del Padre Nostro come abbiamo fatto in finale con quel testo sempre affascinante di Dante, il canto undicesimo del Purgatorio Vorrei invece farlo con un teologo, un teologo contemporaneo anzi uno dei grandi teologi del nostro secolo nato nel 1904 e morto nel 1984 Si tratta del tedesco Karl Rahner che nella sua opera Necessità e benedizione della preghiera tradotto in italiano nel 1994 ha rielaborato il Padre Nostro per sé come teologo e per i fedeli durante una sua predica nella chiesa di San Michele a Monaco di Baviera è una preghiera teologica che però conserva ancora se Dio vuole lo spirito, la spiritualità profonda del Padre Nostro che ne è l'anima Padre Nostro che sei nei cieli del mio cuore anche se esso sembra un inferno sia santificato il tuo nome sia invocato nel silenzio mortale del mio perplesso ammutolire venga a noi il tuo regno quando tutto ci abbandona sia fatta la tua volontà sia fatta la tua volontà anche se sulla terra si uccide perché la tua volontà è la vita e ciò che in terra sembra la fine in cielo invece è l'inizio della tua vita dacci oggi il nostro pane quotidiano facci pregare anche per questo che non ci scambiamo mai con te neppure nell'ora in cui tu ci sei vicino rimettici nostri debiti e nella prova preservaci dalla colpa e dalla tentazione che in fondo è una sola di non credere in te e di non comprendere il tuo amore ma liberaci da noi stessi liberaci in te liberaci nella tua libertà e nella tua vita parliamo a dio così con molto meno parole e molto più cuore ecco questo teologo che ha scritto libri difficilissimi in un tedesco che ironicamente suo fratello che pure era teologo hugo runner definiva impossibile tant'è vero che sognava come compito della sua vita di accademico in pensione di tradurre in tedesco le opere in tedesco del fratello ebbene questo teologo così difficile così arduo come vedete quando si lascia attrarre dalla forza del padre nostro riesce a ritrovare anche egli una sua trasparenza una sua immediatezza pur conservando sempre il rigore se volete o comunque una tonalità alta che è quella propria della teologia ebbene noi cominciamo questa sera in una prima grande tavola potremmo veramente immaginare una delle grandi icone nella quale è rappresentato Giovanni l'Evangelista cominceremo con la teologia sulla paternità di dio di Giovanni io per aiutarvi a seguirmi dato che il discorso è piuttosto complesso come dicevo vorrei idealmente che voi con un po' di fatica indubbiamente aveste quasi a chiudere gli occhi idealmente alle cose esteriori cioè idealmente essere capaci di creare quell'ascolto che è l'ascolto più alto quello più complesso voi sapete che ci sono stratificazioni molteplici di ascolto per ascoltare anche una grande musica pensiamo alla passione secondo Matteo di Bach è possibile avere un eco carezzevole che ti percuote il timpano ed è possibile avere anche un ascolto che ti travalica cervello cuore ti giunge nei precordi più profondi dello spirito nei luoghi più segreti ecco è necessario per raggiungere quel livello almeno i livelli intermedi è necessario creare un po' un'oasi d'ascolto quindi il compito principale è vostro perché io questi temi più o meno li pratico li conosco quindi però in questo caso anch'io non sono particolarmente in grado di trasmetterveli in modo tale che siano così affascinanti come erano per esempio quando facevamo risuonare le parole di Gesù perché Gesù tra l'altro oltre ad avere la profondità estrema del suo messaggio aveva però questo linguaggio che ha striato tutta la cultura tutta la letteratura tutta l'arte e tutta la semplicità del cuore degli uomini degli uomini di questi due millenni ebbene io userò questo metodo cercherò soprattutto di farvi risuonare delle parole delle parole di questi di Giovanni I e di Paolo Poi che sono teologi che partono dal messaggio di Cristo ma naturalmente lo rielaborano lo interrogano lo interpretano lo illuminano lo trasfigurano alcune volte anche lo tendono verso nuovi orizzonti ascoltate io sono Giovanni ho visto cose oscure come aquila egli sale verso i bagliori di Dio così definiva Giovanni Victor Hugo nella sua opera Contemplazioni come vedete il punto di partenza era questo ascoltate perché io ho visto vedete l'ascolto e la visione sono un po' le due componenti della teologia di Giovanni noi naturalmente ci fermeremo soprattutto sulle sue parole le parole del Vangelo dicevo per questa prima icona il suo Vangelo è composto di 15.416 parole greche 879 versetti egli usa un vocabolario un lessico ridottissimo tutto sommato 1011 parole usa soltanto queste parole per arrivare fino alle cose oscure per salire ricordate l'immagina dell'aquila che gli è stata attribuita per salire anche nelle vette dei cieli del mistero luminoso di Dio ebbene proprio l'uso delle parole specifiche è la considerazione preliminare che voglio fare Giovanni ha un suo vocabolario un vocabolario che riconoscono subito coloro che si abitano a leggerlo con attenzione ma penso anche chi legge in superficie i livelli famosi dell'ascolto si accorge subito che Giovanni usa un altro linguaggio mette in bocca a Gesù un altro linguaggio rispetto a quello che noi ritroviamo nei sinottici che è abbastanza omogeneo e per questo motivo che quando egli deve definire la nostra figliazione la figliazione di Cristo cioè deve definire il rapporto che lega Cristo e noi al padre egli usa un vocabolario proprio in modo da creare una distinzione e questa distinzione sarà la base anche della nostra riflessione sulla teologia di Giovanni mi spiego egli per parlare del fatto che Cristo è figlio di Dio usa un vocabolo greco che è il vocabolo più comune per indicare figlio cioè Uyos Cristo è Uyos l'unico Uyos al singolare l'unico figlio lo dovremmo rappresentare nella nostra traduzione con la F maiuscola come spesso si fa noi tutti gli uomini l'umanità sono invece Tecna Tecna singolare tecnon è un vocabolo greco che indica un altro tipo di figliazione una figliazione se volete un po' più blanda meno intensa dell'Uyos quindi abbiamo già in Giovanni attraverso l'uso delle parole già la distinzione di due livelli c'è il primo livello che potremmo rappresentare così allora Dio è padre di Cristo questa dichiarazione naturalmente viene sfrangiata e viene sfrangiata in molteplici forme in molteplici colori in molteplici iridescenze questa distinzione tra noi e Cristo nell'essere figli di Dio appare anche se ricordate in maniera molto sensibile in quella mattina la mattina di Pasqua quando Giovanni ci presenta l'incontro tra il risorto nell'interno di quel giardino cemeteriale di Gerusalemme l'incontro tra il risorto e Maria di Magdala in quell'occasione voi sapete che Maria di Magdala deve fare un itinerario faticoso per riuscire a raggiungere il Cristo risorto non Gesù di Nazareth che aveva conosciuto cioè il mistero del Cristo glorioso e in quell'occasione Gesù le dice queste parole notate la distinzione io salgo al Padre mio e Padre vostro Dio mio e Dio vostro come vedete è chiaro che il messaggio che Maria di Magdala deve comunicare nel capitolo ventesimo versetto 17 del Vangelo di Giovanni è un messaggio che ha nel suo interno questa distinzione il Padre mio ma c'è anche il Padre vostro e molto spesso nel Vangelo di Giovanni Cristo entra in scena e parla del Padre mio distinguendolo nettamente da quel rapporto che pure intercede tra Dio creatore e le sue creature ho detto questo rapporto è un rapporto che Giovanni fa trascolorare ecco e da questo momento in avanti io mi affido alle parole di Giovanni è un rapporto d'amore ed amore reciproco sentite il Padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa il Padre ama il figlio e gli manifesta tutto quello che fa il Padre mi ama perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo come il Padre ha amato me così io ho amato voi sono citazioni che in pratica attraversano sono come dei frammenti che attraversano tutto il Vangelo di Giovanni c'è anche la risposta d'amore del figlio naturalmente nei confronti di questo amore verticale che discende su Gesù il figlio vive per il Padre onora il Padre suo conosce il Padre noi sappiamo che il conoscere biblico indica l'amore ama il Padre rimane nel suo amore come vedete tra l'uno e l'altro corre una specie di flusso di corrente viva d'amore ed è per questo motivo che allora se due persone sono tra di loro unite nell'amore sono unite ecco un altro colore del rapporto tra Cristo e il Padre tra il Padre e Gesù l'unità io e il Padre siamo una cosa sola il Padre è in me e io nel Padre una dichiarazione di comunione completa è un'unità vedete di essenza e di azione come Gesù fa notare un giorno al suo discepolo un po' distratto a Filippo che gli chiede di mostrargli il Padre di cui parla così tanto la risposta di Gesù se conoscete me conoscerete anche il Padre non credi Filippo che io sono nel Padre e il Padre è in me le parole che io dico non le dico da me il Padre che è in me compie le sue opere credetemi io sono nel Padre e il Padre è in me come vedete notate la reiterazione a ondate che è tipica abbiamo già avuto occasione più di una volta di dirlo poi quando leggerete qualsiasi pagina dei grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Giovanni dovrete sempre ricordare questa tecnica che è semitica però è usata in una maniera particolare da Giovanni questo flusso continuo per cui le onde continuamente ritornano su se stessi adesso avete sentito come più volte è stato detto sempre lo stesso concetto e cioè che il Padre è in me io sono nel Padre le sue parole le sue opere sono dentro di me io manifesto le sue parole le sue opere ed è soprattutto in quella sera al piano superiore di quella casa di Gerusalemme ornata con tappeti dove Gesù celebra l'ultima sua cena che Giovanni però non descrive ricorda soltanto quei lunghi discorsi che Gesù ottiene in quella sera là proprio mentre sta per calare la notte di quella che sarà l'ultima notte di Cristo sulla faccia della terra ebbene in quel momento Gesù quando finisce il suo discorso ricordate quel lungo discorso che è come se fosse una specie di immenso fiume che lentamente si avanza e alla fine anziché avere come estuario un oceano che è in basso sale un po' verso l'alto in un oceano di luce ed è quella che viene chiamata la preghiera sacerdotale un po' impropriamente ecco è soprattutto in quell'ultimo momento che emerge questo legame di unità tutte le cose che mi hai dato vengono da te le parole che hai dato a me sono uscito da te io vengo a te tu padre sei in me e io in te la gloria che hai dato a me io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola notate anche in questo caso l'insistenza su questa unità ma vorrei proporvi anche un altro colore amore unità se c'è questo legame profondo Cristo è per eccellenza il rivelatore del padre è colui che comunica il mistero di Dio egli si presenta sulla scena come colui che può parlare più di ogni altro anzi è l'unico che può parlare di Dio perché tra lui e Dio non c'è la distanza che pure il più grande profeta che la grande guida Mosè aveva sentendo sempre Dio come un gorgo di luce nel quale non poteva fissare gli occhi pensate Mosè che non può neppure vedere il volto di Dio tutta la possibilità che ha avuto è stata quella di vederlo mentre si allontanava e di vedere il suo dorso come dice suggestivamente il libro dell'Esodo mentre Mosè era rinchiuso nell'interno di quella grotticella e la mano di Dio copriva l'apertura in modo che il passaggio di Dio fosse soltanto un bagliore remoto come una figura che da lontano tu intravedi ebbene Cristo si presenta invece come colui che ha visto e che sa lo è rivelatore perché comunica la realtà misteriosa e trascendente di Dio il segreto ultimo di Dio il cuore ascoltate ancora tra l'altro in inizio le prime parole che io leggerò sono quelle conclusive il suggello di quel gioiello in assoluto che è il capitolo primo il grande inno prologo del Vangelo di Giovanni Dio nessuno lo ha visto proprio il figlio unigenito che è nel seno del padre notate anche questa immagine di tipo diremmo quasi fisiologico sessuale il grembo eiston colpon tra l'altro in greco c'è non che nel ma che è rivolto in una tensione c'è eis che in greco è una preposizione che indica una comunicazione un tramite vivo il figlio unigenito che è nel seno del padre lui lo ha rivelato ho fatto conoscere il tuo nome voi sapete nel linguaggio biblico è la persona il nome ho fatto conoscere la tua persona agli uomini che mi hai dato nel mondo dirà alla fine della vita Gesù inizia a fine Cristo ci rivela non solo l'essenza di Dio egli è il rivelatore della parola anche cioè del messaggio che Dio ci vuole comunicare la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato io dico al mondo le cose che ho udito da lui come mi ha insegnato il padre così io parlo io non ho parlato da me ma il padre che mi ha mandato egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare tutto ciò che ho udito dal padre l'ho fatto conoscere a voi le parole che hai dato a me io le ho date a loro io ho dato a loro la tua parola anche in questo caso ho preso proprio dei lacerti cioè dei frammenti di tutto il vangelo vedete come con quale costanza si ripete che io ho dato a loro la tua parola egli è venuto a portare la parola e la sua parola altro non è che l'eco della parola di dio che risuona in noi ancora questa rivelazione ha un altro aspetto il figlio comunica anche rivela la vita divina e tutte le volte che si rivela la vita inesorabilmente questa vita dilaga ed entra anche nella creatura come il padre ha la vita in se stesso così ha concesso al figlio di avere la vita in se stesso tra parentesi faccio notare che nel vangelo di giovanni e questo anche quelli che non sanno il greco riescono a capire il gioco dei vocaboli cui facevo cenno prima vi ho detto ios tecna cristo ios noi solo tecna giovanni usa anche due vocaboli per indicare la vita e sono vocaboli che noi conosciamo quelli che non sanno il greco perché è entrato a noi molti vocaboli nostri sono di matrice latina o di matrice greca attraverso la mediazione magari del latino egli usa due vocaboli uno più raramente l'altro in maniera invece più consistente quasi mai il primo bios bios è la vita è la vita fisica c'è anche questa perché ha un dono del creatore quella vita che corre nell'interno delle nostre vene nell'interno delle nostre arterie nell'interno del nostro cervello di tutto il nostro essere fisico che è nelle coordinate dello spazio e del tempo ma egli usa molto di più quando parla come in questo caso di ciò che ci ha dato Cristo attraverso il Padre Cristo rivelatore del Padre parla di Zoe Zoe come sapete biologia e bios da una parte Zoe noi l'abbiamo usato in una forma particolare per indicare per esempio la zoologia agli animali cioè siamo rimasti sempre a quel livello ma Zoe nel linguaggio di Giovanni indica invece la vita trascendente tant'è vero che spesso ha un aggettivo insieme a Ionios che vuol dire eterno ma che non indica una vita che non ha mai fine indica la vita stessa di colui che è eterno cioè Dio la vita divina ecco allora come il Padre ha la vita in se stesso così ha concesso al figlio di avere la vita in se stesso questa è la volontà del Padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna vedete il dilagarsi della vita io lo risusciterò nell'ultimo giorno come il Padre ha la vita ha mandato me io vivo per il Padre così colui che mangia di me vivrà per me e qui è il famoso discorso come tutti ricorderete che Gesù tiene nell'interno di quella sinagoga che i pellegrini ancora vanno a visitare là sul lago di Tiberiade a nord nella città di Cafarnao in realtà quella sinagoga è posteriore posteriore forse di 4-5 secoli a Cristo però sotto quel pavimento di quella sinagoga abbastanza sontuosa sotto ci sono ancora le tracce di quella molto più modesta e polverosa sinagoga nella quale Gesù pronunciò quel discorso che fu anche come dicono gli studiosi il segno della svolta di Cafarnao della svolta galilaica quando alcuni cominciarono a non andare più con lui convinti che fosse un pazzo che fosse perlomeno un blasfemo un folle volete andarvene anche voi è quella domanda che gli lascia asserpeggiare tra i suoi ascoltatori dopo aver anche detto che tra di voi c'è uno che è già posseduto da Satana e se c'è la risposta gloriosa di Pietro però c'è anche il dubbio di molti ebbene in quell'occasione egli aveva dichiarato proprio questo colui che mangia di me vivrà per me è il simbolo del cibo peraltro è il simbolo della comunione e questa comunione di vita ancora la rivelazione che il figlio ci fa è la rivelazione dello spirito santo che procede dal padre cioè è la rivelazione e la comunicazione di una presenza nella storia di Cristo e di Dio cioè della Trinità attraverso lo spirito infatti sempre nell'interno di quell'ultima sera ma anche in altre occasioni egli ricorda che Gesù ricorda che colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio è lui è Cristo in questo caso e colui che Dio ha mandato dà lo spirito senza misura vi manderò dal padre il paraclito lo spirito di verità che procede dal padre e da ultimo la rivelazione che egli ci porta è anche una rivelazione che inquieta è una rivelazione che conosce anche se volete un po' il terrore che conosce anche il momento del giudizio infatti egli ricorda che il padre ha consegnato a lui il potere di essere il rivelatore scatologico come si dice cioè colui che svelerà i segreti di tutti i cuori giunto alla fine della storia il padre non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio al figlio al quale ha dato il potere di giudicare come vedete abbiamo fatto passare tante parole e tutte queste frasi di Cristo indicano indubbiamente questo legame profondo d'amore di unità e di rivelazione che intercorre tra Dio il padre e il figlio Uyos il figlio con la F maiuscola un legame vedete solenne che comprende non solo la completa compenetrazione nell'uno e nell'altro il padre e il meglio solo nel padre ma comprende anche questa delega solenne di trasmettere al mondo il messaggio di trasmettere al mondo lo spirito di trasmettere al mondo la vita di Dio di trasmettere anche il giudizio ed è a questo punto che allora possiamo passare all'altro aspetto di questa teologia giovannea della paternità di Dio è facile di per sé ricordare il duplice movimento della teologia di Giovanni da un lato c'è questo movimento verticale e discensionale che è quella della paternità di Dio che scende in maniera unica sul figlio ma c'è un altro movimento che potremmo quasi dire discensionale poi orizzontale che è quello della paternità di Dio che passa attraverso il figlio ed entra lateralmente nei fratelli cioè negli uomini nell'umanità il figlio è la via che conduce noi al padre è la via che trasmette a noi l'amore del padre come il padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il padre così anche colui che mangia di me vivrà per me sentite il passaggio dalla verticalità all'orizzontalità è per mezzo suo che noi siamo ascoltati dal padre la preghiera che noi facciamo nella liturgia da questo punto di vista è strettamente teologica rispetto alle semplici devozioni come concludiamo noi le nostre preghiere sempre in questa maniera per il nostro signore Gesù Cristo tuo figlio che vive e regna infatti Gesù aveva detto tutto quello che chiederete al padre nel mio nome egli ve lo concederà vedete la preghiera deve passare attraverso il figlio è riconoscendo il figlio che noi otterremo dal padre la gloria se uno mi serve il padre lo onorerà e se volete in sintesi per rappresentare questo movimento orizzontale verticale discensionale prima e poi ascensionale per noi io penso che la sintesi più efficace ci è offerta non dal Vangelo di Giovanni ma da un altro scritto che appartiene al cosiddetto corpo degli scritti giovannei cioè anche le lettere in maniera particolare quel capolavoro che abbiamo avuto già l'occasione di commentare al suo tempo la prima lettera di Giovanni uno dei testi di alta teologia del nuovo testamento tra l'altro scritto in una maniera anche particolarmente suggestiva la prima lettera di Giovanni ha questa frase in 2.13 chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre chi professa la sua fede nel figlio possiede anche il padre penso che questa dichiarazione che come vedete è costruita col parallelismo semitico antitetico prima il negativo e poi il positivo esprima chiaramente come deve essere la fede cristiana cristologica se noi dobbiamo salire a Dio dobbiamo salire attraverso il mediatore per eccellenza che è unico il figlio chiunque nega il figlio ha negato automaticamente il padre chi professa la sua fede nel figlio costui vedete non si dice crede anche ma possiede il padre perché la fede biblica come ben sapete non è sapere delle verità su Gesù Cristo delle verità dogmatiche che sono nell'interno quasi di un ideale trattato e invece aderire in pienezza è per questo che si usa il verbo possedere chi possiede il padre e perché ha professato la sua fede nel figlio e la fede è adesione ed è a questo punto che allora possiamo dire e concludiamo questo breve ritratto della nostra figliazione possiamo dire che il legame che noi abbiamo col padre è sostanzialmente un legame cristologico mediato attraverso Cristo e dà la caratteristica di essere amore e qui allora vi voglio proprio voglio lasciar parlare quasi Giovanni ancora una volta provate se riuscite ancora a seguire questo flusso continuo di parole però vedete che i temi sono pochi fondamentalmente sono temi quasi stagliati in sé ecco se voi seguirete queste parole sentirete che questo legame come il padre era legato al figlio attraverso l'amore il figlio era legato al padre attraverso l'amore al figlio per eccellenza noi Tecna noi figli dobbiamo ricevere quell'amore e ricambiare quell'amore ed è questo il segno della nostra figliazione divina Dio ricordate queste parole nella notte nella notte di Nicodemo la notte ventosa di Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato qui siamo a Cafarno invece nel discorso dell'eucaristia cosiddetta del pane di vita nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato se uno mi ama il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui e qui c'è questa immagine della monè della dimora dell'intimità nell'interno di una casa spirituale nella quale si è tutti insieme come se fossimo un'unica famiglia il padre stesso vi ama poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio vedete sempre il passaggio attraverso Cristo comunque padre santo custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente e quest'ultima frase è della prima lettera di Giovanni ed è quasi il suggello il sigillo quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio e per esserlo realmente io concludo l'icona di Giovanni l'amore del padre verso il figlio l'amore del padre verso i figli lo concludo vorrei concluderla con alcune parole bellissime che Giovanni mette sulle labbra di Gesù là in quella cornice che forse qualche d'uno di voi non molti perché si va di meno in quest'area quando è stato pellegrino nella terra santa ha ricordato forse ha letto proprio in quell'occasione passando attraverso quella regione aspra che è la San Maria nell'interno di quella città vicino a Sicar il pozzo la donna il sole incandescente di una giornata calda forse d'estate Gesù stanco e il dialogo con quella donna quel dialogo che fiorisce in dichiarazioni che sono peraltro di una grandezza unica hanno attraversato i secoli la riflessione sulla libertà la riflessione sull'acqua quell'acqua che disseta per sempre ma soprattutto io vorrei ricordarvi quelle parole in cui appare il nome del padre e sono quelle parole che definiscono il vero culto cristiano guardando quel monte quel monte verdeggiante tanto caro anche ai samaritani di oggi che lassù sperano celebrano ora la loro Pasqua e lassù sperano che venga il Taev cioè il restauratore cioè il Messia loro ebbene il monte Garisim e idealmente Gesù fa trapassare questo monte da un raggio una specie di dissolvenza che fa balenare sullo sfondo l'altro monte il monte caro a lui come ebreo il monte anch'esso del Messia se volete il monte di Sion credimi è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il padre è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità perché il padre cerca tali adoratori passiamo alla figura di Paolo in questo caso evidentemente non c'è bisogno di dire quanto la teologia di Paolo sia importante quanto la sua icona possa essere rappresentata per esempio con quell'immagine che ci ha lasciato Crisostomo Giovanni Crisostomo il grande predicatore della chiesa Cappadoce della chiesa di un'area dell'attuale Turchia il quale immaginava Paolo come se fosse un nocchiero che continuamente stava su questa barca che era la barca della chiesa travolta dalle tempeste e faceva contemporaneamente il marinaio e il nocchiero faceva contemporaneamente colui che urlava ai venti e consolava e confortava i suoi fedeli impauriti una figura di grande potenza di grande potenza anche intellettuale una figura io ho avuto più volte occasione quando abbiamo commentato i suoi scritti di ripetervi di ricordarvi che egli non era però un teorico non era anche se aveva questa mente così straordinale questa intelligenza così acuta ma proprio il suo dettato stesso ci rivela che era un passionale che era prima di tutto un uomo che sentiva visceralmente ciò che poi elaborava mentalmente che era soprattutto un pastore e quindi molte delle sue lettere sono attraversate dai problemi concreti delle chiese pensiamo alla prima lettera dei corinzi e qualche volta anche erano attraversate da quello sdegno che è proprio quando egli vede dei discepoli che stanno tralineando i corinzi soprattutto è un cuore che anche sente la bellezza dell'amicizia nei confronti degli amatissimi filippesi e che alla fine ci lascia come ultimo documento probabilmente dal punto di vista cronologico quel biglietto delicatissimo a Filemone quel biglietto nel quale Paolo persino si permette di fare dell'ironia nei confronti di questo suo amico a cui raccomanda uno schiavo non più come schiavo ma come fratello perché è figlio suo dice figlio di Paolo che l'ha generato mentre era nelle catene portandolo alla fede e c'è anche quel sogno finale di Paolo di poter tornare a casa di questo amico sogno che probabilmente sarà frustrato perché quella casa nella quale egli veniva accolto con affetto non lo vedrà più perché egli morirà forse sotto la persecuzione di Nerone ebbene questo ecco teologo che è anche pastore quando tocca il tema della paternità di Dio lo fa in una maniera abbastanza curiosa abbastanza interessante perché sposta l'asse rispetto a Giovanni Giovanni vedete ha celebrato soprattutto la paternità padre Dio padre Cristo Paolo fa il contrario invece si interessa molto di più della nostra figliazione della paternità divina nei confronti di noi suoi figli dell'umanità facendo anche a quella di Cristo ma tutto sommato quasi in maniera secondaria ma io vorrei cominciare prima di tutto con un saluto che quasi c'è sempre spesso almeno c'è l'inizio delle lettere di Paolo grazie a voi e pace da Dio nostro padre e dal Signore nostro Gesù Cristo la maggior parte delle lettere che costituiscono l'epistolario paolino autentico inizia proprio con questo saluto che comprende come sentite la formula greca e quella ebraica non vi siete accorti grazie a voi caris è il saluto greco grazia poi dopo pace shalom è il saluto ebraico ma il saluto di grazia e di pace da chi viene da Dio nostro padre al centro ci sono queste figure il padre e il figlio per eccellenza la finale qualche volta pensiamo per esempio alla finale della lettera ai Corinzi la seconda lettera ai Corinzi dove c'è la trinità intera la grazia del Signore nostro Gesù Cristo l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi vedete che il padre qui è semplicemente chiamato Otheos Dio per cui di per sé nel linguaggio di Paolo per poter parlare della paternità divina dovremmo andare a vedere tutti i passi in cui si parla di Dio semplicemente perché per lui Dio padre è già nell'interno del termine Dio tant'è vero che qualche volta li usa come sinonimi Dio e Dio padre ecco dicevo anche per Paolo prima di tutto c'è il figlio per eccellenza Cristo anche in questo caso io vorrei semplicemente far passare parole di Paolo senza ammettere tutte le citazioni perché altrimenti dovrei continuamente ripetere numeri numeri continui di versetti di capitoli è già difficile seguire Paolo cominciamo vorrei prima di tutto farvi sentire la celebrazione della persona del Cristo come sono proprio termini usati da Paolo icona del padre o irradiazione del padre cioè se io devo conoscere il padre devo guardare Cristo è l'icona perfetta Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo padre misericordioso e Dio di ogni consolazione ha la sua icona in Cristo che è definito nella lettera ai Colossesi quell'inno di apertura solenne di questa lettera indirizzata a una comunità dell'attuale di una città che ora è un cumulo di rovine soltanto dell'attuale Turchia è definito Cristo icona del Dio invisibile egli è quasi la persona visibile della persona invisibile che è il padre è l'immagine del padre celeste uno scritto che è dei circoli paolini non è di Paolo sicuramente la lettera agli ebrei definisce Cristo con una espressione abbastanza solenne irradiazione della gloria e impronta della sostanza questo vorrei fermarmi un momento su queste idee dell'impronta in greco c'è caractere voi ricordate che quando c'è il sigillo il sigillo per esempio lo si mette sulla cera anche noi abbiamo usato sulla cera e il sigillo lascia l'impronta che autentica il documento ebbene l'immagine che usa questo predicatore che ha composto la lettera agli ebrei che forse apparteneva ai circoli paolini è proprio questa l'icona che prima usava Paolo non vuol dire semplicemente un'immagine una pallida immagine nel linguaggio biblico è qualcosa che aderisce profondamente all'originale tant'è vero che voi sapete che nella tradizione anche attuale araba per esempio non si può fotografare in alcuni ambiti molto chiusi soprattutto non si può fotografare la donna la moglie di un uomo perché se tu la fotografo la dipingi tu strappi lei il suo segreto il suo volto che deve essere nascolto dal velo tra l'altro perché la sua intimità la sua realtà profonda il suo mistero il suo segreto la sua identità può essere conosciuta soltanto dal marito in questa comunione perfetta che intercorre tra loro due ebbene ecco l'icona Cristo è l'icona del padre qui si dice Cristo è l'impronta è quasi il sigillo che noi abbiamo per poter conoscere Dio per poter vedere affacciarci sul volto di Dio e ancora un altro aspetto di questa paternità di Dio che si effonde sul figlio su Gesù Cristo è per noi un po' sorprendente perché Paolo continua a dichiarare che l'atto più grande che il padre ha fatto nei confronti di Cristo del figlio è il farlo risorgere la resurrezione è il sigillo più alto che dimostra a noi la presenza di Dio nel figlio perché come sapete la resurrezione così come concepita da Paolo non è una semplice rianimazione di un cadavere ma è lo svelamento l'epifania completa dell'uomo perfetto e soprattutto del figlio di Dio nella sua pienezza per mezzo per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Cristo nella morte perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre così anche noi possiamo chiamare che camminare in una vita nuova Dio Padre ha risuscitato dai morti Gesù Cristo si dice nell'intestazione della lettera ai Galati che il Padre sia artefice della risurrezione di Cristo è una via per dichiarare anche che il progetto divino di salvezza concepito dall'eternità dal Padre comprende anche la morte la risurrezione e la gloria il Padre ha questo grande disegno e questo disegno di salvezza ha il suo cuore il suo nucleo fondamentale proprio nella risurrezione e la risurrezione è definita in una maniera e qui sentite proprio il linguaggio di Paolo molto difficile che è proprio in apertura del suo capolavoro quando egli si presenta con quella lettera credenziale ai Romani nei primi versetti della lettera ai Romani egli dice che la figliazione divina di Gesù Cristo si manifesta proprio nella risurrezione sentite come egli definisce la risurrezione con il suo linguaggio egli fu costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti effettivamente è un linguaggio molto difficile sul quale i teologi si sono accaniti anche per riuscire a vedere questa costituzione di Cristo come figlio di Dio attraverso la risurrezione in pratica nella risurrezione dai morti io vedo il Cristo in quella verità profonda che non mi era possibile conoscere attraverso la sua il velo della sua umanità è quello il momento capitale in cui si celebra l'epifadia del figlio di Dio per Paolo ebbene se è vero che Cristo è il figlio per eccellenza Paolo però insiste molto dicevo sulla nostra figliazione divina e Dio padre dei cristiani è espresso in tante forme io adesso vi vorrei presentarla vi vorrei presentare questa nostra figliazione attraverso una un testo che Paolo ripete due volte nelle sue due lettere fondamentali è un testo notissimo è un testo che abbiamo già citato anche perché nell'interno c'è quella famosa parola aramaica che era il cuore del padre nostro di Gesù quella parola abbà che abbiamo spiegato l'ultima volta scrivendo ai Galati che è come una specie di prova ad autore della lettera ai Romani e scrivendo poi ai Romani nei Galati al capitolo quarto versetti 4-7 il testo che io vi leggerò nei Romani al capitolo ottavo Paolo versetti 15-17 Paolo descrive il modo con cui avviene la nostra figliazione e io già ho avuto occasione di dirgli che potremmo idealmente giocare sull'immagine del pneuma dello spirito e gli dice che avviene attraverso lo spirito santo ora la parola pneuma spirito vuol dire anche vento come ben sapete respiro respiro dell'aria è il nostro respiro e allora Paolo quasi immaginerebbe quest'altalena di fiati di respiri c'è un respiro che è quello che è nel figlio è un respiro unico assoluto lo spirito che c'è nel figlio per cui egli può dire abbà al padre può far levare verso il cielo questo fiato che dice questa parola in una maniera suprema unica però Dio ha voluto attraverso il figlio che anche noi avessimo questo stesso fiato e facessimo respirando salire a Dio la stessa parola non temendolo più come un sovrano impassibile remoto nei suoi cieli misteriosi adorati quando venne la pienezza del tempo scrive Galati Dio mandò il suo figlio nato da donna tra parentesi è l'unica volta in cui si parla di Maria nelle lettere di Paolo nato da donna nato sotto la legge per riscattare coloro che erano sotto la legge perché ricevessimo l'adozione a figli e che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito il respiro del suo figlio che grida Abba padre quindi non sei più schiavo ma figlio e se figlio sei anche erede per volontà divina questo questa bellissima pagina e Paolo reiterata nella lettera romana fa capire qual è la nostra grandezza e allora ecco che Paolo poi continuerà dirà lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza conforterà i nostri cuori li confermerà in ogni opera e parola di bene ancora ci ricorderà che la radice del nostro essere del nostro esistere non solo del nostro conforto c'è questa presenza del Padre un solo Dio Padre di tutti che è al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti bellissima questa rappresentazione del ramificarsi della paternità di Dio in tutti gli uomini vedete nell'intensità dell'interiorità per noi c'è infatti un solo Dio il Padre dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui e Lui che guida la nostra storia anche quella personale come ricorda Paolo quando ai Tessalonicesi segnala che sarà Dio stesso Padre nostro e il Signore nostro Gesù Cristo a dirigere il nostro cammino in pratica egli vede la vita morale la vita la nostra storia la nostra esistenza con una mano anzi con due mani vedete la mano del Padre la mano del nostro fratello maggiore che è Gesù Cristo vorrei anche concludo ormai questa rappresentazione di Paolo vorrei concluderla con una nota curiosa nella lettera ai Corinzi Paolo cambia una dichiarazione che riguardava la paternità speciale che il Messia aveva riceveva da Dio quindi la figliazione speciale che il Messia aveva secondo l'Antico Testamento secondo l'oracolo di Nathan indirizzato a Davide nel secondo libro di Samuele capitolo 7 lo trasforma e invece di applicarlo al Messia ed è curioso questo lo applica ai cristiani un testo messianico che dovrebbe essere adattato per eccellenza a Cristo io sarò per lui come un padre ed egli sarà per me come un figlio la tradizione lo applicerà sempre al Cristo anche il resto del Nuo Testamento Paolo invece nella seconda lettera ai Corinzi capitolo 6 versetto 18 curiosamente si rivolge rivolge ai cristiani queste parole di Dio io sarò per voi come un padre e voi mi sarete figli e figlie dice il Signore Onnipotente quello che era di Cristo vedete viene quasi fatto scivolare anche nei confronti dei credenti dei cristiani voglio concludere adesso con tre testimonianze con le quali concludiamo tutto il nostro percorso sono tre testimonianze oranti perché non vorrei che questa conclusione che questa riflessione teologica restasse soltanto sospesa nell'interno di questa dichiarazione che come vedete non ho ombra di dubbi Cristo è il figlio unico unigenito con un rapporto di amore assolutamente incomparabile questa è la dichiarazione di Giovanni e di Paolo ma al tempo stesso vedete con quanta insistenza si dice che non soltanto i cristiani ma tutti gli uomini fanno parte di questa ricevono questo mantello d'oro della paternità di Dio che si stende su tutte le sue creature e allora vorrei proprio testimoniarla con tre preghiere prima di tutto la prima che è veramente affronta quel tema che abbiamo già evocato una volta dicendo questo tema noi lo teniamo tra parentesi però è quello che più osta che più è contrario alla categoria di Dio Padre ed è il dolore il male la sofferenza innocente soprattutto ecco io qui vorrei proprio porvi una bella testimonianza di Raisa Maritain la moglie del filosofo Jacques Maritain tanto caro Paolo VI che lo volle alla conclusione del concilio Vaticano II come interprete del messaggio rivolto agli uomini di cultura del mondo intero Raisa sua mogliere ebrea e anche dopo la conversione al cattolicesimo aveva conservato amore per le sue radici e ha scritto una preghiera che ha intitolato in latino Deus Excelsus Terribilis scheggia il grido lacerato delle vittime dell'olocausto la preghiera è quella poesia preghiera è composta nel 1943 è il lamento amaro dei figli che noi lasciamo sospeso e che Dio comprende che si sentono abbandonati dal loro padre celeste se noi gridiamo abbà pater tu non ascolti il nostro grido esso ritorna a noi come una freccia che ha colpito il bersaglio impenetrabile tu ci respingi nella notte è come se avessimo perduto il padre nostro che è nei cieli un baratro si è aperto tra la misericordia e la miseria e tu non vuoi superarlo ma io vi ho detto quando abbiamo iniziato questo lungo viaggio abbiamo detto che tutti hanno pregato Dio come padre ed ecco allora ricordiamo che questo è un tema universale però nonostante lo scandalo del dolore lo scandalo della sofferenza e allora vorrei proprio farvi sentire una preghiera di Mirza Hussein Alinuri detto Bahallah il quale è stato il fondatore di una religione nel secolo scorso che si è staccata per gemmazione dall'islam il bahismo egli era nato in Iran nel 1817 ed è morto martire a Baghdad nel 1892 Signore padre di grande bontà Dio rallegra i nostri cuori col profumo del tuo amore fa brillare i nostri occhi con la tua luce che ci guida incanta le nostre orecchie con la melodia della tua parola ponici al riparo nella fortezza del tuo amore paterno tu sei l'omnipotente sei colui che perdona sei colui che è indulgente nei confronti delle debolezze di noi uomini il padre è il male dell'uomo è il peccato e da ultimo finisco proprio in questi giorni anche se poi dopo queste mie conferenze verranno registrate quindi passeranno verranno poi ascoltate in contesti diversissimi oggi in questi giorni del marzo 1999 mentre voi mi ascoltate voi sapete che sul mondo si sta stendendo in un'area di questo mondo ancora la tempesta della guerra questa guerra e le guerre che mai finiscono e allora vorrei proporvi in finale la preghiera a un padre nostro rielaborato da un uomo politico di grande rigore segretario generale dell'ONU un uomo mistico per certi versi anche se attivo vittima proprio per la pace lo svedese Doug Amersholt nato in Svezia e morto nei cieli del Congo mentre stava nel 1961 mentre stava facendo un'operazione di pace per l'ONU è una preghiera che ci può introdurre anche nel grande giubileo sia santificato il tuo nome o padre non il mio venga il tuo regno non il mio sia fatta la tua volontà non la mia e donaci soprattutto pace pace con te pace con gli uomini pace con noi stessi e liberaci dalla paura grazie a tutti grazie a tutti